Oggi giorno stiamo lavorando per proporvi le soluzioni di domani. Abbiamo degli screening che funzionano 24 ore su 24 per trovare quelle materie attive che possono essere le soluzioni del futuro. Quindi incontri come oggi sono fondamentali per Singenta per capire i vostri problemi, per proporvi le nostre soluzioni, ma anche per capire quali sono i punti su cui lavorare in futuro. Se voi considerate che per un agrofarmaco ci vogliono 10 anni dal momento della prima sintesi fino alla commercializzazione e alla registrazione del prodotto, 10 anni, 240 milioni di dollari sono investiti. Quindi è un capitale per noi, per voi, per tutta la sicurezza alimentare. Come voi ben sapete, Singenta Stein, ma globale, ha portato alla luce prodotti nuovi, innovativi. Conoscete per esempio Sedaxan. Sedaxan è un agrofarmaco ideato qui a Stein e che fa parte della gamma Vibrance Gold. Tutte le varietà cerealicole Singenta sono trattate, conciate con Vibrance Gold all'interno del programma SIT Premier. Le soluzioni del futuro arriveranno ben presto. Solatenol è uno dei nuovi prodotti, delle nuove sostanze che abbiamo creato qua a Stein. Solatenol si tratta di un fungicida di ultima generazione che ha un controllo fondamentale, un controllo molto esteso su tutti quelli che sono i patogeni dei cereali. Con focus su Septoria, ma con uno step change per quello che riguarda le ruggini. Una sostanza è un valore inestimabile. Dobbiamo evitare che questa sostanza venga erosa da resistenze e da un uso sconsiderato e non concordato fra i diversi attori della filiera. Questo per poter prolungare la vita di queste sostanze di inestimabile valore. Grazie a tutti.